ciao e benvenuta in questa sessione di stretching mattutina quindi saranno dieci minuti di stretching e lo prendiamo come risveglio muscolare iniziamo a rilassare le spalle piccole circonduzioni indietro mondeggiamo a destra sinistra i nostri piedi sono appoggiati alla larghezza delle spalle bene adesso allungo di lato contraggo bene gli addominali adesso allungo il braccio in alto e poi torno dall'altra parte allungo e poi torno in questa fase non bisogna sforzare quindi seguite il vostro corpo piuttosto fate movimenti un pochino più piccoli inspiro butto fuori l'aria quindi dentro l'aria fuori l'aria quando torno ancora una volta ok mi fermo qua gambe piegate arrotondo la schiena e poi apro arrotondo e apro ancora arrotondo facciamo una fase di riscaldamento per non fare stretching a freddo ancora una volta ok mani sui fianchi adesso portiamo a destra e a sinistra il bacino sempre respirando 4 3 2 1 adesso aumentiamo il movimento piegando una gamba alla volta spingo in fuori il bacino e piego 4 3 2 1 ok ci fermiamo qui arrotondo la schiena piano piano scendo una vertebra dopo l'altra le ginocchia si piegano arrivo a terra appoggio le mani a terra e da qui prova a distendere le gambe e poi le piego se non le distendo completamente non è importante l'importante tenere le mani appoggiate al pavimento ed essere in appoggio con il nostro peso 50 per cento sulle gambe 50 per cento sulle mani fuori l'aria quando distendi ancora fuori l'aria distendo dentro l'aria prendo aria e quando piego ok lascio le gambe piegate mani sulle ginocchia srotolo questo mix di tutto ciò che ho appreso durante la mia vita lavorativa quindi non lo potrete inquadrare in una specifica disciplina ok ruotiamo da questa parte con tutte e due i piedi rivolti verso lo stesso parete ok e da qui allungo bene le braccia verso l'alto mantengo lo stretch a livello del polpaccio dietro e allungo bene verso l'alto le braccia inarco leggermente la schiena non esagero respiro ok adesso scendo vado con le mani in appoggio al pavimento vado indietro con il piede scendo giù con il ginocchio appoggio il dorso del piede e spingo bene in basso se necessario allontano la gamba davanti anteriore la porto più in avanti per non sovraccaricare il ginocchio quindi non posso stare in questa posizione questo è sbagliato il ginocchio va avanti e mantengo qua respiro ok perfetto appoggio di nuovo il piede sollevo il ginocchio da qui avvicino leggermente il piede dietro e ruoto verso la tv o verso il cellulare non so dove tu mi stia guardando abbiamo le gambe divaricate e distese con le mani in appoggio al pavimento se non riesce ad appoggiare ti consiglio o un cubetto di quelli che si usano a yoga oppure un piccolo sgabello stabile sul quale appoggiare le mani l'aria che entra e l'aria che esce respiriamo bene ruotiamo la vostra sinistra ruotiamo il piede sinistro poi il piede destro e da qui di nuovo scendo col ginocchio scendo col dorso del piede destro ovviamente e allungo bene guardo in avanti sento tirare l'inguine respiro ancora mantengo ok ritorno appoggio i piedi distendi il ginocchio ruota bene i piedi di nuovo al centro ci ritroviamo di nuovo nella posizione precedente manteniamo qua l'allungamento piego le ginocchia distendo le ginocchia butto fuori l'aria piego le ginocchia distendo le ginocchia fuori l'aria piego distendo le ginocchia distendo fuori l'aria ancora 4 stendo 3 2 l'ultimo ok di qua braccio sinistro braccio destro scusate lo apro e ruoto se riesco porto il braccio verso il soffitto e torno al centro ruoto dall'altra parte lentamente torno al centro avvicino i piedi tallone punta tallone punta tallone punta tallone punta quando sono il doppio della larghezza delle spalle metto le mani sulle ginocchia e srotolo piano piano la schiena per tornare in piedi molto lentamente ok chiudo i piedi alla larghezza delle spalle perfetto da qui prendo il braccio sinistro lo porto in alto e poi lo faccio scendere dietro alla schiena faccio spuntare la mano qui la fermo con la mano opposta e inclino la testa destra e cambio ritorno su lascio il braccio salgo col braccio destro e poi lentamente scendo vado dietro alla schiena appoggio la mano qua e inclino a sinistra in alto a a a a a Ok, torno Sciolgo il braccio Circonduzione delle spalle Ok, adesso mi porto in fondo al tappeto Arrotolando la schiena, scendo a terra piano piano Piega le ginocchia, le mani sono appoggiate Fai quattro passi per arrivare in posizione di piegamento Da qui appoggia le ginocchia Appoggia il dorso del piede Siediti sui talloni E allunga bene la tua colonna Bene, ritorna Diamo in appoggio sulla pancia E da questa posizione Metti il gomiti A livello della spalla E da qui Spalle lontane dalle orecchie Questo non lo fai Se hai uno scivolamento delle vertebre Una spondilolistesi Inspira bene Ponte dei piedi Infila il braccio sinistro all'interno della quadrupedia Appoggia la spalla Appoggia la tempia Allunga il braccio sinistro Bene, ritorna lentamente E lo facciamo dall'altra parte Allungati bene Appoggia la tempia a terra Allunga il braccio E lo facciamo dall'altra parte E lo facciamo dall'altra parte E lo facciamo dall'altra parte Bene, ritorna lentamente Andiamo a portare le ginocchia vicina E a sederci Lateralmente Ora porti i piedi avanti a te Io mi giro così mi vedi meglio Da qui Inspira Agganciati bene sotto le ginocchia E espira Rotonda la schiena Ritorna Inspira Le spalle lontane dalle orecchie E espira Rotonda Ancora una volta Inspira E ritorna Espirando Bene Ritorna al centro E ci vediamo nella prossima lezione Grazie mille Ciao